Bentornati! Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in passato, trovate qui in alto la recensione, la seconda maglia del Real Madrid, però questa volta in edizione player, quella indossata dai calciatori. La maglia away dell'Adidas Real Madrid 2022-23 è viola. Il colore ufficiale utilizzato è light purple, che è presente anche sulla divisa casalinga 22-23, che trovate nel link in alto. Una sottile stampa geometrica, composta da piastre diagonali, appare sul davanti e sulle maniche. Adidas combina il colore principale chiaro con il Night Navi, un blu molto scuro, praticamente nero. Pieni utilizzato per il colletto, i polsini delle maliche e tutti i marchi. Incluso uno stemma del club ricolorato sul petto a sinistra. La maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. La maglia è molto bella. Proprio per questo motivo ho deciso di riprenderla anche in versione player. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Devo dire, fatta veramente molto bene, con tutte le patch e i colori giusti, brillanti. Mi sono trovato veramente bene. Però un appunto che devo fare, in questa versione non ho trovato delle grandissime differenze a livello di tessuto tra la versione fan che avevo già visto. Il costo che vedete qui sopra è comunque molto basso, quindi voglio dire, per una maglia così, per un costo così, secondo me dovete comprarla e averla a casa, proprio perché è una delle squadre più famose e più prestigiose al mondo. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere poi sul sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player. Che vedete! Grazie a tutti!